di quando siamo andati in sede. Intanto a dimostrazione di quanta creatività ci sia in questa città, cioè perché poi, quello che diceva poco fa Alberto Zampieri, mi parlava del 1923, ma è una tradizione che probabilmente, non per voler per forza essere di parte, ma che abbiamo soltanto noi a Pisa. Mi hanno portato, e quindi credo che sia arrivato qualcuno qua in televisione a consegnarlo ai tecnici, che mi hanno fatto avere in studio questo bozzetto che vorrei che la telecamera mi aiutasse. Hanno visto che, o sapevano, che Mr. Indiani era in trasmissione. Questa è me, la dà. Allarghiamola un po', Massimo allarghi. Capo Indiani. Vedete questa cosa che ora ovviamente regaleremo al mister, però gli amici... È bellina, però via. Facciamo un applauso, facciamo un applauso. Facciamo un applauso perché Pisa Nera Azzurra, Romeo, sono quelli che tutti gli anni veramente hanno fatto delle cose simpatiche. Quindi a Pisa, caro mister, è così. Non è che si vive soltanto i 90 minuti della domenica. No, anche la settimana. Ma quello è bello. Senti Aldo...